Scaduti i cento giorni del contratto di affidamento alle cooperative per il progetto senza dimora, il mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune di Venezia ha fatto scattare la polemica. Il consigliere della lista Casson, Nicola Pellicani, attacca. Garantire una vita decorosa a chi vive in strada è il primo passo per evitare situazioni di degrado ben peggiori, sostiene. Gli effetti dei tagli applicati dalla Giunta Brugnaro finiranno per alzare i costi sociali del problema. Ma la critica non preoccupa l'assessore al sociale Simone Venturini che invita a non fare confusione. Una parte dei servizi per il senza dimora è fornita gratuitamente dal mondo del volontariato, puntualizza. Poi ci sono le cooperative finanziate dal Comune. Noi intendiamo affidare questi servizi sulla base di una procedura di evidenza pubblica, quindi faremo un bando, un bando aperto a tutte le cooperative nel mondo delle associazioni, a cui daremo un percorso trasparente per affidare il servizio di dormitorio invernale per il senza dimora. Gli altri servizi, quelli continuativi, quegli estivi, precedentemente svolti con una cooperativa, li svolgeremo impiegando il personale comunale per risparmiare delle risorse e per impiegare meglio il personale comunale. Il nuovo bando pubblico, garantisce Venturini, sarà pubblicato entro un paio di mesi. L'attività sulla strada non sarà tagliata ma anzi potenziata, seguendo però una nuova filosofia. Non c'è abbandono delle fasce più marginali, c'è però la richiesta da parte dell'amministrazione, ai servizi coinvolti, di lavorare non solo per gestire una problematica di tipo sociale, ma anche guardarsi intorno perché alcuni fenomeni di marginalità in centro a mesi stanno creando dei problemi. A noi interessa guardare entrambe le facce della medaglia e quindi tenere in considerazione il bisogno degli ultimi, aiutandoli, ma anche i diritti dei cittadini che abitano in alcune zone e che oggi sono in alcune difficoltà.